Innanzitutto bentornato Francesco, che sensazione è tornare a lottare con i tuoi compagni e farlo in un derby? È un'emozione fortissima, è stato bellissimo ritornare perché il periodo dove sono mancato è stato lungo, è stato difficile, però sono contentissimo di poter tornare a dare una mano a tutti i miei compagni. Hai vissuto parte di questo derby dalla panchina, hai guardato i tuoi compagni, poi sei entrato a dare una mano, ce lo racconti questa partita? Ma è stata una partita molto positiva secondo me perché avevamo interpretato molto bene gli aspetti tattici della partita e eravamo in pieno controllo, peccato per quell'episodio del calcio d'angolo perché abbiamo dato tutto e meritavamo la vittoria. Sono quattro derby di fila senza sconfitte, tutti e tre quelli di questo campionato li hai vissuti tutti e quattro tu, è una bella soddisfazione uscirne imbattuti? Sì è una bella soddisfazione anche perché sappiamo quanto la gente ci tiene a questa partita, è la partita perché il derby è sempre il derby e quando mancano i tifosi ormai è già da più di un anno che mancano, è brutto, però quando lottiamo così e diamo tutto penso che i tifosi siano contenti. Ora cosa ti aspetti da te e dal tuo geno? Ma da me spero di stare bene fisicamente, mi auguro questo perché è quello che ultimamente mi ha mancato, spero di avere continuità e di fare bene e di raggiungere i nostri obiettivi insieme a tutti i miei compagni. Grazie Francesco. Grazie.